Amici di Volumbright, buongiorno, benvenuti. Siamo qui al Museo del Risorgimento di Torino e al convegno Senza Pietà organizzato dalla CPD in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità. Sono qui con i primi due ospiti, che sono insomma due pezzi grossi, lo posso dire, a Torino ma non solo. Alla mia sinistra, Patrizia Sacca, sportiva, atleta paralimpica di Tennis Tavolo. Ciao Patrizia, benvenuta. E alla mia destra Danilo Ragona, designer ormai di fama nazionale, internazionale, possiamo dire così, sportivo anche lui. Benvenuto Danilo. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, iniziamo con te Patrizia. Il titolo del convegno è Senza Pietà. Secondo te, perché bisogna essere senza pietà nei confronti delle persone disabili? Perché purtroppo è un luogo comune riuscire sempre ad avere questo tipo di atteggiamento, no? Cioè il pietismo è una cosa che io ho sempre cercato di, in qualche modo, arrivo dagli anni 70, la mia paraplegia è un po' storica, perché io sono un pochino storica, ed erano anni per cui c'era proprio quel tipo di vittimismo, no? Quel tipo di, oddio, poverina, deve andare a scuola, oddio alle scale, oddio. E quindi Senza Pietà, finalmente, in queste generazioni, io vedo, appunto, tutte le persone come Danilo e come tantissimi altri ragazzi e ragazze che è arrivato un momento dove quel tipo di realtà lì non esiste più. Senza Pietà, perché avere una sede a rotelle vuol dire essere resedienti, quindi vuol dire fare con quello che hai, vuol dire progettarsi, vuol dire inventarsi nell'ambito sportivo, nell'ambito di Danilo del lavoro, nell'ambito della musica, nell'ambito di qualsiasi attività. Per cui, secondo me, Senza Pietà, in assoluto, è riconoscere la persona come individuo. Questa è importante, perché poi tutte le persone, innanzitutto, sono diverse uno dall'altro. E quindi, se io sono una persona con una disabilità, certamente una persona che cammina, che è un normotipo, potrebbe essere una persona diversamente disabile. Dico io sorridendo, perché in realtà questa è una cosa che un po' appartiene a tutti quanti. Ho scelto lo sport, proprio perché nello sport c'è la competizione, c'è comunque l'agonismo, e ho iniziato proprio con persone che non avevano disabilità. Io ho scelto negli anni 90-92 di giocare a tennis tavolo. È uno degli sport che permette di fare attività anche allo stesso livello, diciamo così. Proprio per combattere questo tipo di... ritrovarmi di fronte a una persona in piedi che vede a me sulla sedia rotella e che deve sconfiggermi. Qual è crudeltà, no? Tra virgolette. E quindi diciamo che negli anni 90 sono stata molto contenta di questo, perché è stata un'opportunità. Sono piccoli semi che ognuno di noi mette, non soltanto per me, ma per tutto quanto, quello che può essere la persona che ha delle problematiche. Grazie Patrizia. Danilo, tu invece puoi portare il tuo esempio per quanto riguarda il lavoro. Sappiamo insomma che non è facile integrare spesso le persone disabili, proprio perché c'è qualche barriera ancora. Raccontaci appunto la tua esperienza. Ma infatti senza pietà è un messaggio forte dove, devo essere sincero, io non mi identifico molto, ma mi trovo senza pietà quando lavoro con me stesso. Quindi cerco di essere molto programmatico, molto organizzato negli obiettivi che mi voglio dare. E quindi nelle mie attività senza pietà cerco di riuscire a fare di tutto per arrivare al risultato. Quindi questo è l'obiettivo dei miei progetti, dei progetti che mi piace soprattutto condividere, perché trovo che i progetti di qualsiasi tipo di natura hanno forza e bellezza se sono condivisi con grande rispetto per ogni tipo di professionalità. Bellissimo, grazie. Ecco tu col tuo lavoro dimostri anche che la perfezione tecnica, la bellezza non è una cosa così distante dalla disabilità. Cioè può centrare e c'entra insomma con le tue carrozzine che hai progettato e anche con gli altri progetti. In questo caso la disabilità io l'ho vissuta come un altro punto di vista, nel senso che ho cercato di vivere la progettualità nella disabilità come l'occasione di vedere le realtà da quest'altro punto di vista. Quindi l'ho vista come una grande possibilità a favore. Ho cercato di... infatti quando insegno a scuola la prima cosa che faccio a lezione è porto un paio di carrozzine faccio un giro fuori dalla scuola con gli studenti facendoli sedere sulla carrozzina ma non tanto per sensibilizzare ma proprio quello per metterli in una condizione semplicemente diversa quindi da un altro punto di vista e devo dire che poi quando si torna in classe c'è una carica e un'energia perché comunque poi anche condividere comunque l'esperienza in modo positivo e costruttivo mette poi anche le altre persone in una condizione positiva di condividere in questo caso a scuola dei lavori di progettualità molto più sereni. Grazie Danilo. Chiudiamo con Patrizia. Hai detto di essere una persona storica nell'ambito dagli anni 70. Tu hai vissuto un po' tutta l'evoluzione dello sport paralimpico dagli anni 70 a oggi. Come è cambiata la prospettiva culturale nei confronti della disabilità? Abbiamo visto il successo che hanno avuto i nostri atleti alle Paralimpiadi di Rio. Beh, devo dire che il numero intanto, anche per quel che riguarda il femminile, io ricordo che negli anni 80-85 eravamo quattro donne e comunque si arrivava in medaglia perché c'erano numeri diversi. Sicuramente Torino 2006 ha fatto un po' la vetrina. Credo che con Torino 2006 che ha cominciato a vedere lo sport paralimpico da allora ad oggi ho visto veramente un numero, insomma, diciamo, è aumentato il numero di persone con disabilità che hanno fatto sport. Poi, diciamo che personalmente lavoravo in ospedale, all'ospedale Mauriziano, e ricordo che prendevo aspettative non ritribuite, ferie, e molti colleghi mi facevano pap pap sulla spalla dicendo ma sì, dai, effettivamente è giusto che tu debba fare qualcosa. Adesso si è riconosciuti, cioè adesso siamo nell'altro, come dire, vedendolo adesso dico, caspiterina, ma perché non sono oggi che faccio attività, no? Che c'è comunque io che mi sono fatta il cosiddetto mazzo perché comunque andavo a lavorare, mi allenavo tutti i giorni tre ore, andavo, prendevo ferie per fare, insomma, tutta una serie di tornei internazionali, eccetera. Adesso finalmente posso dire, io come tutti quegli storici come me, abbiamo contribuito a far sì che persone più giovane hanno la strada più spianata, insomma. Quindi sicuramente adesso l'atleta è un professionista. Quando l'ho fatto io era un, vabbè, va, fa qualcosa che è meglio. Poi in realtà la professione c'era ugualmente perché ci si allenava, insomma, eccetera, eccetera. Quindi anche il fatto di essere assunti nei corpi militari, questo, cioè, per me è un orgoglio, no? Cioè ogni volta che io indosso la divisa della nazionale e mi sento in qualche modo ancora facente parte di questo sistema, dico, caspita, che bello vedere una Bebevio che dice la vita è una figata e manda questo messaggio positivo. E aiuta anche, grazie a questo, a tante persone che in questo momento magari vedono Danilo, vedono me, ed è un esempio, non come per dire, voilà, cioè, dimentichiamocela questa sedia. In fondo può diventare davvero una cosa che ci vivi, ma non deve essere primaria. Anche se, indubbiamente, la vita su una sedia non è facile. Grazie Patrizia, grazie Danilo e buon convegno. Grazie.